Emergono nuovi dettagli sulla brillante operazione dei carabinieri di Fiorenzuola che ha portato ieri all'arresto di due fratelli originari di Cutro in provincia di Crotone. A casa di uno dei due arrestati, un insospettabile professore di scienze, i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio laboratorio di produzione di sostanze stupefacenti. Uno dei più sofisticati laboratori scoperti in Italia negli ultimi 15 anni ha dichiarato il comandante della stazione dei carabinieri di Fiorenzuola, il capitano Emanuele Leuzzi. Il laboratorio serviva per la produzione di sostanza da taglio necessaria per la realizzazione di medaglioni di cocaina del peso di 10 grammi, smerciati anche nel Piacentino. Nell'appartamento a Gadesco Pieve del Mona, in provincia di Cremona, sono stati sequestrati 200 grammi di cocaina purissima al 100% e 200 di benzocaina, la sostanza prodotta per il successivo taglio della cocaina. Sono stati trovati anche documenti che legano i due ad un uomo arrestato in Venezuela grazie all'operazione Emilia mentre tentava di importare 13 kg di coca. Grazie a tutti.